Io credo che nel mondo ci siano tante aziende, tante brand che sono degne di ammirazione. Lamborghini è senz'altro una di queste, una delle migliori con questa grande storia, ma con questa grande evoluzione, questo progetto del futuro. E credo che una delle cose che si ammira di più in queste brand sia la loro capacità di superare se stessi, con coerenza, con continuità, stagione o anno dopo anno. La parte più avanti nel design, nella ricerca, nella tecnologia, ma anche una grande attenzione ai clienti, che è la chiave di lettura, perché con i clienti, stando vicino a loro, si riesce a crescere, si riesce a evolvere continuamente e farli anche, ovviamente, attenzionare alla brand, ai propri prodotti. La prima è la frustrazione e il rimorso di aver aspettato così tanto per provare una Lamborghini sul ghiaccio. E la seconda è il proposito di riprendere molto presto questo grande divertimento, questa guida sul ghiaccio, che credo che poi, tra l'altro, insegni proprio per la guida normale, avere più controllo, più conoscenza in tante situazioni normali. Quindi, senz'altro, ritorno.